Ciao a tutti e a tutte, bentornati bentornati in un nuovo blog e nulla praticamente martedì sono stata in stage ma non è andata granché per vedere il fatto che vi racconto poi adesso allora praticamente non mi piace più lo stage per vedere il fatto che sono sempre le stesse cose scansionare e parla eliminare quindi non è che mi interesse più di tanto ne ho un po' parlato con il mio dottore di lavoro e quindi nulla se adesso sono attaccato allo specchio perché aspettate praticamente sono attaccato allo specchio qua davanti e nulla ve lo farei pure vedere ma il problema che c'ho la cover che si chiude quindi non è granché e praticamente nulla se adesso mi sono appena asciugati i capelli che alcuni sono ancora umidi adesso me li asciugo per bene e intanto preparo il phon oltre a quello praticamente di macchina durante il pomeriggio sono stata a casa e oltre quello nulla se scusate per vedere il fatto che non ho registrato ma come ho detto in questi giorni non sto bene e si nota poi dal mio da come mi comporto mi conoscerete abbastanza da dire che che quando notate che non pubblico video ma è perché ho varie ragioni e anche perché chiedo scusa se del fatto che non registro proprio tutti i giorni ma proprio quando non me la sento tanto vale che lo faccio dopo e niente adesso vi saluto e noi ci vediamo tra poco con il video di oggi ciao